La dame un bel bianchetto, acqua tonica per mamma. Mamma, c'è di là l'amministratore, affrontiamo un po' la situazione. Senti, mi raccomando, eh. 1600 euro, guarda qua. 1600 euro, mamma mia, esagerato. Ma è tre anni che non paghi l'Ener, te la pongo, te la scalo proprio, te la pago io. Me la puoi tenere qua due giorni? Sì, mia madre. Accorda, mia madre. Lui è Gianni. La zia non me la sento, non me la sento. Non si è fin 15 d'agosto, Gianni. No, Marcellino. Io te devo chiedere una cosa, me dovresti tenere mia madre. Ma di salute? Una roccia. Mamma prende per la pressione amlodipina, no sughi rossi la sera. Il pomodoro cotto le dà acidità, non riesce a dormire. Allora, Vichini. Gianni? Puoi recuperare un pochetto la televisione? Tiè, prendete la televisione e vattene, eh. Apri per favore, io devo apparecchiare. No, voglio stare da sola. Grazie. Ma tutta la pasta al forno che sei maniata. Ti ferrai questo, signor? Signor. Signor. Grazie. 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 Verrò. Gaia. Scrivete. Scrazione. Di soli. La pe occasiona. Di soli. Grazie.